La sanità digitale offre nuove e interessanti occasioni di crescita alle piccole e medie imprese che si occupano di innovazione tecnologica e di fornitura di servizi avanzati. È un settore dalle ampie prospettive perché coinvolge una molteplicità di discipline al fine di garantire un'efficienza delle cure. Al tempo stesso la tecnologia e l'innovazione non solo possono cancellare le estenuanti lungaggini burocratiche ma possono dare anche una speranza a tutti coloro che affrontano una malattia devastante. Di prospettive opportunità se ne è discusso durante un incontro organizzato al Neuromed di Pozzilli. Il mercato è un mercato che vede un trend di crescita addirittura del 18.6% all'anno con un fatturato che supera i 27 miliardi di dollari in proiezione sul 2016. Le piccole e medie imprese e le eccellenze italiane che si occupano di innovazione tecnologica, di forniture di servizi avanzati ma anche di protesica piuttosto che di applicazioni ingegneristiche che possono essere trasferite al comparto sanitario, sono i principali attori dei programmi europei in questo momento e nello specifico di Orazio 2020 che sta già dimostrando la capacità di premiare progetti che siano sfidanti, che abbiano un approccio multidisciplinare, che producono dei risultati che possono essere immediatamente sul mercato. La parola d'ordine è dunque aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario puntando sull'innovazione scientifica. In quest'ottica istituti sanitari e aziende potranno diventare punto di riferimento europeo. Ciò è ricaduta sul territorio da un punto di vista di posti di lavoro, di sviluppo delle tecnologie e soprattutto quando si parla di territorio non un discorso locale ma il nostro territorio di riferimento è l'Europa. Quindi i progetti devono avere una fruibilità in tutti i paesi della comunità e devono poter rappresentare per le nostre piccole e medie imprese una possibilità di innovazione di prodotto, di processo o di entrambi, ma soprattutto le deve mettere in una condizione di confronto e di competitività in ambiti ben più vasti di quelli ordinarie.